Si fa più pesante e non risparmia il Quirinale, Renzi, Berlusconi e tutti i partiti, l'attacco di Grillo sulle riforme. Quelle in campo scrive sul suo blog, sono le riforme della P2, noi ci opporremo e appoggeremo la proposta a Chiti. Poi, intercettato dalla troupe della trasmissione di Rai 3, Agorà dice... 25 maggio è un bivio, o noi o loro, lascia perdere... Se il Movimento 5 Stelle vince le europee, lei va da Napolitano e chiede di avere il governo in mano. Assolutamente sì. Non io, prepareremo una bella squadra di governo, andremo lì e governeremo questo paese... Ha già un'idea per chi potrebbe essere il nuovo Presidente del Consiglio?